Il posticipo della seconda giornata di ritorno della Serie C nel Girone B vede davanti due grandi del campionato Pescara e Perugia partono subito forte gli Umbri che cercano dei punti per legittimare la loro buona fase di forma con il terzo posto che è vicino. Il Pescara regge bene l'impatto nella prima mezz'ora ed esce poi alla distanza dopo un paio di spaventi che avevano preoccupato il portiere Plizzari. Qui c'è una bella conclusione con il destro, vola il portiere Adamonis sulla conclusione come detto di Milani, Pescara che rimane stabilmente in fase offensiva nella seconda metà del primo tempo. Conclusione bellissima qui per quanto deviata da parte di De Marco l'incrocio dei pali, ferma il tiro del centrocampista del Pescara e si rimane dunque al 38esimo sullo 0-0. Pescara continua a spingere e ci sarà qui l'occasione più importante del primo tempo su un pallone rimesso in mezzo da Merola. C'è un intervento falloso ai danni di Accornero e c'è dunque il calcio di rigore per i biancazzurri, non c'è però il cartellino rosso che pure per il fallo da ultimo cuomo sarebbe stato necessario. Dal dischetto si presenta Vergani che però opta per una soluzione di precisione e nemmeno troppa, in realtà ben parata dal portiere Adamoni, sabile poi a rialzarsi subito ed a togliere la sfera. Dalla disponibilità di Merola il Perugia troverebbe subito dopo il gol del vantaggio con il neo arrivato Silla ma la segnalazione di offside impedisce agli Umbri di passare allo stadio Adriatico. Ancora Pescara con un altro destro a giro nella ripresa, ancora Adamonis con i suoi pugni ad opporsi ed a salvare il club Umbro. Il Pescara prova a rispondere di nuovo con Cangiano, il suo destro è però bloccato dal portiere degli Umbri, poi un bel colpo di tacco per quanto centrale da parte di Cuppone ci accompagna al 93esimo quando il Perugia torna a farsi vedere davanti. L'intervento di Di Pasquale fino a quel momento perfetto è rivedibile e c'è il clamoroso autogol dei Biancazzurri, la deviazione beffa imparabilmente Blizzari, negli ultimissimi minuti c'è anche un rosso. Agli Annoni per doppio giallo al 97esimo c'è il triplice fisco arbitrale, il Perugia passa sul campo del Pescara, annesima sconfitta dolorosa per i ragazzi di Zeman.